ciao a tutti da tendres original qui è morbiduro e shako 88 na ciao a tutti ragazzi oggi vi presenteremo la seconda puntata di filtri lucre anzi seconda missione e vediamo se ci riusciamo con pistola silenziatore che abbiamo sbloccato precedente ah io ho preso la mitraglietta hai nerdato no no ho fatto una partita prima così allora seconda missione all'acquedotto si si silenziata 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 la potrei andare via mi sa che la potrei comprare pure io no ma a me non me la dassi ah si silenziata 17.000 eccola qua si si quella e ma 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 io entro per chi ci sta guardando adesso vedrete una differenza tra prima senza armi silenziate con armi silenziate diciamo che il gioco cambia abbastanza forse perché è molto tutto più facile sì forse perché livello normale poi aumentando i livelli c'è la difficoltà cosa che non possiamo ancora però anche migliorata la mitraglietta in che senso si può migliorare le armi una volta schiacci triangolo mi sembra sulle armi ma alla base sì sì non lo sapevo questo interessante ovviamente noterete sempre che i caricamenti sono velocissimi proprio vabbè qui siamo qua qua c'è il primo amichetto mio vai 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 io mi faccio la porta i cassettini te li fai tu no di trovare Cartoghe io mi faccio e questo qua si si digito dici 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 oh occhio ah la baletta te la sei sempre tenuta? ma io ci ho messo il pistolo e mi trovi si l'ho migliorata anche quella ma migliorata che fa? cioè aumenta solo le munizioni no? il danno perché alla fine quello è il danno no no aumenta anche precisione oppure altra cosa brutalmente non ti ha visto hanno i paraocchi dei cavalli ho scoperto che ci sono le granate mt che disattivano le telecamere per un periodo di tempo ottimo quello deve essere fenomenal tu ti fai la sotto così variamo un poco anche il video si raccomando che magicamente un paio di qua mi faccio mi sa che ora mi sgamano ha trovato il morto ma l'ho atterrato ma ma c'è ma vabbè la mitraglietta è troppo più che me ne sono fatti così due con una scialanza la prova aveva ok distruggiamo qua hanno trovato un morto dove? no qua era la telecamera mia che stava a dirti che ho fatto il primo obiettivo ma se trovano il morto già sarebbe salita la barra rossa mmmm brutta gente la brutta 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 perché non viene? ah perché stai accendo la radio? un obiettivo connessioni sono fuori eh quando non è... non è stitto proprio nel sangue ma... qua per uscire mi serve... ad estera? la scala a livello 2 ah io per ora non ne ho presa ancora dal lato mio comunque non ce n'è testa eh è solo brutta gente guarda anzi neanche quella neanche quella neanche quella ma qua ci hai fatto il devasto eh si ah che cosa vieni da me se non puoi andare più di la è inutile che stai di la vieni qua nel frattempo disattivare i ghiallani ma non so dove sei oh ma non so dove sei aspetta che vengo ti vengo a prendere dai fermo dove sei allora ma scusa dovrebbe segnarmelo sulla mappa dove sei no? ah si si io ti vedo ho visto qua vieni ah ok quindi qua ci hai fatto tutto qua dentro? si si ok allora aspetta che la telecamera hai successo? ok attraversiamo qui le porte ormai non so trapassabili praticamente ah questa porta non l'avevo vista prima eh ok c'è il tizio là qua c'è il tizio brutto qui stanno coltivando lattuga buona lattuga si vabbè uno l'altro e uno la chiude vabbè dobbiamo farci l'altro veloce e l'altro mi sa che morirà brutalmente shit l'altro è morto brutalmente shit c'è manca arrivata prendere le munizioni della migraietta ah ma ci sono due si fai andare via quell'armato che mi sembra che se ne va quell'armato si però la porta la devi vabbè quell'armato è ancora la se ne è andato perfetto ok vai ok quell'armato è pericoloso che cazzo è cazzo si si su quando le uccidi vabbè ah 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 dobbiamo esattivare la telecamera rompe leggermente i maroni si dobbiamo disattivarla non cioè riesce a scassinare quella ma non riesce a prendere la porta giù qua ce ne è due se mi dai una mano andiamo vai 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 aspetta no 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 eh suona alla porta fagli uscire come si suona alla porta scusa premi cerchio no qual'è quello per più chiaro e cerchi per più si con cerchio prova ah ok e infatti eh ma dovevo stare alzato che è successo hanno bussato no non ho mai via tra la pizza eh però vedi che fa partire la chiamata a bussare eh non conviene eh bussare non conviene guarda quanto è salito bussare è una truffa quindi c'è la telecamera come bussare è una truffa tu devi morire no la telecamera davvero aspetta che la difettivo ok che sto abbiamo risolto che poi vabbè anche se la telecamera la vedeva questa è la stanza di sorve no guarda che ha schiamato la minchia ha schiamato quello tuo fra la la è minchia troppo troppi cadaveri si si abbiamo esagerato però me lo vado gli devono morire tutti quella lei quello deve morire tutti li stanno trovando ho un problema non si fa la schia si fa la schia figlio di maria va bene e basta ora quelli non li trovano più perchè sono sotto spero che devo prendere la valigia qua io ci sono anche le munizioni quindi effettivamente tutti ci sono ok ah da sopra non si può sparare no sto sparendo questo da come rovinare veramente guarda una partita fenomenale maledetti l'ho scoperto quello non si può fare il cappò quello eh quello deve morire brutalmente infatti allora quindi aspetta si vedela quando ok vai eh ma io qua sono forzata chassi la telecamera la mia ammazzata vabbè teori eh la telecamera tutte e due poi li vedo la telecamera oh arriva vabbè vai di costa andiamo dai vai basta zero stilt penetriamo come se non ci fossero mai no 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 non esagerare vai ormai ormai è andata se ci prendono gli SWAT siamo fottuti vabbè gli SWAT a 5 arrivano scappo questa non è una puntata di abolic questa è una puntata di Filti Lucre hai proprio visto tutte cose? credo di si ok c'è scritto solo di scappare dove arrivano due ah ce l'ho io ce l'ho la scritta eh ok non l'abbiamo finita al 100% stilt però devo dire che comunque l'abbiamo finita scappa eh scappa perché non ci fa entrare scappa ah qua devi prima ripulsare eh l'ascensore ma che diciamo che poteva andare peggio ma alla fine ce l'abbiamo fatta ok ogni volta l'unica sfida che non riusciamo mai a completare è di venire all'obiettivo senza essere sopperti però vabbè guarda quanti soldi dai non è andata male ricompensa 10.000 in più più livello eh ma mine ha telecomandato a spotter che vogliamo fare? vogliamo fare anche la seconda la terza perché questa è troppo facile cioè troppo veloce vincere sì regaliamo 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 anche la terza puntata dai veloce dai effettivamente questa è stata così tu bleh pa 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 così dice è stata una toccata e una fuga si poi vedete tutto il tempo del gioco e il caricamento la se ne va perché si però effettivamente con la uzi è troppo più però eh ora che metto pure che la posso potenziare faccio partire eh si provo intanto non c'è la terza missione si vai vai potenzia oggetto si potenzia anche la pistola sembra che costa 10.000 allora è sboccato ma non è che trovo a fare una volta solo fra e che poi costa 21.000 il prossimo capi ma forse lo puoi fare l'altro potenziamento eh c'è scritto buono buono aiuto vado la 21.000 euro ho buttato i soldi per la pistola ho presentato pure la pistola però vabbè cioè vabbè allora diventi proprio OP praticamente no ma non me lo fa fare a me potenzia sulla mitraglietta ah perché costa 21.000 e non ce li ho hai capito? 21.500 poi fino a che poi arriva a un punto praticamente che diventi Dio con la vitraglietta ma va bene io partirei subito vai 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 mi sta piacendo sto gioco veramente spero che non finisca mai perché poi ti prende eh diciamo che te le goi è abbastanza divertente si poi costa aggiunto degli aggiornamenti che non lo sapevo mmm veramente bello dove siamo qui? la terza missione l'hai letta? davanti ancora dovrebbe partire gli obiettivi quelle erano le fogne comunque vediamo belli consigli no? l'oscurità è tua amica cerca gli interruttori della luce cosa che noi veramente non abbiamo mai fatto eh 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 allora obiettivo primario lustarella ha bevi gli obiettivi secondari ascolta e impara qua siamo sui tetti mi pare si forse la muscina dei tetti ok oggi sei partito ottima che ho fatto su una roba maledetto si è polizia per svizzera sicurezza tu fa che facci una cosa questo me lo atti ce n'è un'altra quella è importante bello meraviglio te lo spezza la gamba si direbbe essere la chiave si ma di là che c'è di là dove ah qua serve la tessera si quella è questa vabbè era una semplice volta allora quello lo attiro Sasi e tu lo ammazzi quale? questo lo attiriamo qua dentro come la con l'acqua aspetta che ora arriva lo puoi fare anche tu eh vai vai si è vero perché è tu si effettivamente succeda in effetti e queste non dovrebbero sgamare la chiave l'hai presa tu? si ma serve dall'altra volta brava prendi i soldi ma non ce n'erano soldi di là vero? maledetti motorini motorini maledetti oltre ce n'è una a sinistra si si dove si cadde ucciderli in maniera abbastanza fluviale che non si fanno sgamare vedi è che lo sgama quello blu se non lo ammazziamo eh lo vado ad ammazzare subito ok io vado di qua vi lo ce n'è altri due vedi qua c'ho la stanza ok adesso nel piano dovrebbero venire quelle infatti no? si sta arrivando allora dobbiamo ammazzare questo ok però nel gabinetto ci devono essere 800 lira che fosse un gabinetto oh cacchio sta arrivando qualcuno di blu maledetto ma anche il cadavere ha visto è venuto proprio sparato dritto da me proprio dire che questa porta va bene controlla bene si sono stanze nascoste perché ahimè io ho trovato stanze nascoste che si aprivano con trucchette e cose varie ok qua ho pulito tutto poi non posso accedere là perché comunque mi serve la testa di livello 1 che c'hai tu e se vieni mi fai un favore perché la stanza delle telecamere così disattivano le telecamere arrivo a meno per questo giorno perché c'erano un paio che volevo ammazzare però ci pensiamo tra poca violenza troppo violente così così apriamo pure la disattiviamo l'allarme scusa non è ah dai 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 ci siamo pure no va bene io mi prendo i soldi no quella è la cosa che la tessera quello ce l'hai attivata ok non c'è più niente ora possiamo andare ad ammazzare quelli che voleva ammazzare qua comunque direi proprio di fare una bella strage perché qua basta poco per farsi sgamare eh già qui stava sgamando ok portate che non ha chiamato con la radio noi abbiamo guardato proprio non ci vedi proprio e guarda guarda se tu mi lasci per terra 100 dollari fra 100 dollari si sta contando da quella parte qua ce ne sono due ho visto ok tutto a posto tutto a posto tutto a posto vabbè ok quello penso che non si arriverà mai quindi tu ti fai questo lato qua mi raccomando raccogli tutto che io entro dentro gli faccio vedere ah quello l'hai aperto tu perfetto i cessi l'hai fatto perché c'è sangue nel bagno o è cagata qua ah ci vuoi la tessera livello 2 questo e questo si si poi prendi anche i soldi che stanno là sopra e vieni da me puoi entrare direttamente da dove sei tu eh però occhio a quello di a quello blu io direi di non ammazzarlo là perché è troppo in mezzo alla stanza se mi apri non è troppo ma è troppo in mezzo no no vai indietro poi lo ammazziamo casomai nel corridoio no deve morire subito eh ma non mi arriva a me ascolta che arrivo eh ascolta che arrivo eh arrivo arrivo guardalo guardalo killer non è più un lato è andato a iniziare il killer hai visto se di là c'è altra gente vabbè vabbè o ci vedo o ci vedo io eh certo che cazzo non sia da arrivi c'è brutta gente 80 o sta arrivando ma il terzo è arrivato ho attaccato preso anche da che vabbè sono scopo vabbè poi c'è una telemunizione ok quindi teoricamente qui non c'è più niente ma sai che la voglio accendere la televisione proprio per scoprire guarda il bordello che fa ah che c'è quello là guarda quello là del pezzo di merda no ma qua c'è un passaggio segreto vuol che la telecamera vediamo dove va a sto passaggio segreto dai questo era duro ah mi devi disattivare l'allarme se no non posso rubare l'oro qua dai la telecamera non c'è più che l'allarme scusa dove era il pulsante della telecamera sono un po' nella cacca vuoi una mano? no non c'è tu lasci sempre vedi tu raccogli i pezzi gli oggetti proprio belli belli poi lasci sempre quelli piccolini tipo i 100 dollari non li raccogli ma fai sto vizio brutto ma perché io non ho bisogno di 100 lire? eh ce nemmo 100 lire a me servono i miliardi vuoi ascoltare la telecamera perché non posso prendere qualcosa da dentro eh l'ho capito ma non so dov'è è qua guarda l'ho trovata ah qui c'erco la testa ah è un bossa no no pensavo che riduca qua comunque l'ho trovata perché c'è il vetro ma è infrancibile c'è il disegno di qualcosa non capisco cosa devo stare per rompere ho visto uno gli devo sparare ah no scannalo fra scannalo non l'ho fatto ci dispiace scanare la gente però ah no non era la non era telecamera sono sbagliato a gioielleria come cazzo come lo ha disattivo questo? un buon ricordo eh tipo mica ho sbagliato pensavo pensavo niente allora è dal lato duo che c'è quello per risattare la telecamera eh l'ho disattivata ma un ora ora ne è disattivato uno però eh non è disattivato quello che mi interessa a me mi fa ma ma schiamato mazza a matto fra oh mi ha lanciato pure la granata quello vabbè sto arrivando no no ci hanno lanciato una granata anche tu le butti il granata a cazzo eh eh ma dobbiamo fare quei documenti quindi anche se ci sgamano dobbiamo vendere quei documenti ok i documenti di carico documenti di carico anche se ci si chiama la telecamera eliminiamo a tutti e poi scappiamo vabbè oh questo no ok allora tu già crea la via di fuga che io vado a prendere i documenti ci vediamo all'ascensore no la via di fuga è di là fra eh no sto a prendere i documenti ah no di qua ah li vai tu e di qua hai i documenti ah allora ti aspetto al 3 si si al 3 lì c'è qualche altra cosa che ti sei dimenticato là non credo ma qui c'è una valigetta arriveremo al livello 2 ma i documenti li devo prendere ah ma guarda dov'è ma vaffanculo la telecamera è davanti vabbè si ma comunque eh alla fine aprendo la porta numero 3 si non ce l'abbia riuscita comunque devo fare il giro ma hai raccolto quello che c'era si ho preso la valigetta ok allora ci vediamo all'ascensore vabbè ci vediamo all'ascensore di qua è chiuso ma no di qua ho celato la camera vabbè che ormai è finito però si streggio ma lui lo fa apposta vabbè ok che dire anche la missione 3 è fatta ovviamente ci hanno sgamato ma nessuno ha avvisato la gente esterna quindi da la missione 3 è riuscita con successo quindi da Morbiduro e Shaco 88 e dai De Andres Originals ci vediamo al prossimo episodio di vai Sasa Filti Lucre ciao ciao ciao